Chi è? Solo cose di lavoro. Chi ti scrive messaggi alle 4 di notte? Posso vedere il telefono? Fai sul serio? Sì. Quello che dovrebbe essere accompagnato da un avvertimento. L'amore può uccidere. Questione di principio, ci dobbiamo fidare. Ma ora non mi fido di te. Io ti amo. Ti amo tanto. La gente si innamora, si sposa. Ma non sa mai chi è l'altro. Tutto bene? Qualcosa non va? C'è un'altra? No. È un comportamento animale. Quando un uomo non ha più scelta. Quando si sente con le spalle al muro. Allora attacca. Non può farmi del male. Beh, è che andrò alla polizia. Se vuoi restare, devi lasciarla per sempre. Non accetta di essere lasciata. Io voglio un c***o di futuro con te. Noi avevamo un accordo. Ma che stai facendo? Non è facile. Nel matrimonio si hanno alti e bassi. Ti assi facendo? Noi avevamo un accordo. Noi avevamo un accordo. Noi avevamo un accordo. Grazie.